Tele Durruti, Fulvio Abate, auguri a Dario Fo che domani, 24 marzo, compie 90 anni. Nella mia vita di giovane comunista Dario Fo c'è stato. Ad esempio, sapendomi tale, una fidanzata di mio padre mi fece dono tanti anni fa di questo libro, compagni senza censura, proprio del teatro politico, nuova scena con Dario Fo che solleva il pugno chiuso, pensa. C'è anche il secondo volume, compagni senza censura, però questo non mi fu donato. Infatti questa è Fran Carame, la compagna di strada, diciamo che con Dario Fo ha condiviso quell'avventura politica di teatro militante. Dove ho avuto anche il premio Nobel. E cos'è che mi piace ricordare di Dario Fo? Molto semplicemente un espediente di drammatizzazione militante che si svolgeva negli anni settanta. Durante una rappresentazione rompe un puliziotto con i baffi e dice fermatevi questa manifestazione, non si può svolgere. Allora tutti cominciano a rumoreggiare e Dario interviene e dice compagni, mi raccomando, adesso tutti insieme con fermezza, solleviamo il pugno chiuso e intoniamo l'internazionale. E tutti appunto Dario Fo ha vissuto per una ventina d'anni e andava anche a letto col pugno chiuso, così. Stava seduto col pugno chiuso, è faticoso passare vent'anni così. Compagni, adesso tutti insieme cantiamo l'internazionale. L'internazionale, per intenderci questa qui, è tutti lì a cantare l'internazionale. Vorrei abbassare il pugno, però non, ecco, lo sollevo questo, però non è possibile. Compagni, adesso tutti insieme, tutti insieme intoniamo l'internazionale. Non accettiamo provocazioni. E poi a un certo punto anche il poliziotto, solleva il pugno chiuso e anche lui cantava l'internazionale insieme a Dario, alla compagnia e al pubblico. Novant'anni. Vedi, te lo dicevo, quando tu incontravi Dario Fo negli anni settanta, lui stava sempre così. Infatti la mano tu gliela davi così, piacere. Andava a letto e dormiva, dormiva così. E' faticoso passare tutto il teatro, tutte le sue rappresentazioni si svolgevano così, con lui sempre con il pugno chiuso. Un lavoro molto impegnativo. Compagni, 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 compagni. Non accettiamo provocazioni, adesso tutti insieme a cantare l'internazionale, compagni. Bene, ci sono passati tanti anni e immagino che ancora adesso Dario Nostro vada a letto tenendo il pugno sollevato. Così, così, sta sempre così Dario Nostro. Te ne do l'ultimo. Sempre. Anche quando va, anche quando va al bagno, entra così al bagno, si mette seduto, poi si rialza. E tutti lo salutano così. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Auguri. Sì, infatti posso stare sempre qui. Però, gli avessero dato il premio Nobel perché è stato vent'anni così, ti ne do l'ultimo.